Penne d'amore cari amici Paolo, Paolo Crepet ci parla della passione d'amore solo chi è il grande psichiatra e psicologo Paolo Crepet non ha letto quest'opera di Serafino Massoni un'opera che appare una ventina di anni fa nel catalogo Aliberti Editore e poi viene riproposta cinque anni fa nel catalogo Leonide Edizioni e è in quest'opera che si parla della passione d'amore Ma sentiamo cosa dice Paolo Crepet? Sentiamo eh! Sappiamo perché quando sei molto innamorato hai paura che quell'amore finisca no? o no? L'innamoramento non è un pret-à-porter è un vestito di Valentino è una cosa meravigliosa è un amore unico irripetibile può essere quello che arriva alle cinque tutti i giorni con il Garofano beh qua mi fermo tanto tanto l'alexio di Paolo Crepet ve la metto come link nel riassunto di questo video allora cominciamo col dire che Paolo Crepet per esempio non conosce ciò che dice il grande filosofo francese che dice Jean-Paul Sartre relativamente all'amore relativamente all'amore Jean-Paul Sartre dice così appare chiaro che amare è nella sua essenza il progetto di farsi amare così appare chiaro che amare è nella sua essenza il progetto di farsi amare e qua è spiegata in quest'opera è spiegata spiegato che cos'è la passione d'amore in infiniti video ho già definito l'amore dicendo che l'amore è quella forza che sposta le montagne ma che prima o poi ti fa finire o in tribunale con gli avvocati o in ospedale o qualche volta persino al cimitero ok Paolo Crepet a te Paolo Crepet e a tutti voi tanti cari saluti da la stirpe del serpente